Di pomeriggio e di sera intensificati i controlli straordinari interforse nel centro di Vicenza e nelle aree considerate a rischio a causa della presenza, a volte illecita, di soggetti molesti che infastidiscono i passanti, arrecano danno ai commercianti, bivaccando sulle panchine e consumando alcolici. Raffica di controlli nel weekend che hanno portato ad identificare più di 200 persone di cui 52 con precedenti penali. Il bilancio dei pattugliamenti mirati tra Campo Marzo, Via Gorizia, Viale Milano, Giardini Salvi, Zona Sampio X e Strada Bertesina hanno portato il questore ad emettere 10 avvisi orali, 8 foglie di via e 4 ordini di allontanamento dal territorio nazionale. Il monitoraggio si è concentrato tra sabato e domenica nel centro storico, nei luoghi di maggiore aggregazione.